Io nasco come medico specialista scienze dell'alimentazione quindi capite bene eh come qual è la mia passione eh per la nutrizione clinica e eh naturalmente l'ha già detto la collega Silvia la nutrizione artificiale si inserisce nell'ambito della nutrizione clinica che rappresenta un capitolo molto vasto e permettetemi una nota di rammarico alla quando è eh ho visto il come come tutti noi ho visto il nuovo nomenclatore regionale e ho percepito una sorta di declassamento della nutrizione clinica che continua l'ha già detto Sofia a comparire tra le altre branche ma non ha una sua dignità eh di specialista e quindi secondo me se non partiamo da lì poi accaduta eh sulle zone sulle aree sui presidi eh non avremo il peso che eh non ci meritiamo noi se lo meritano i pazienti perché poi noi eh ci confrontavamo a pranzo abbiamo sempre dei feedback positivi quindi il paziente che dice voi rispondete sempre eh vi troviamo sempre avete sempre eh una parola un'indicazione eh per noi è eh quello che poi ci ripaga di eh qualche arrabbiatura che quotidianamente abbiamo ma come tutti noi nei nostri eh servizi. Io andrò brevemente vi ho portato solo due eh due slide io raccolgo un testimone pesante di chi mi ha preceduto che ha organizzato il servizio in maniera egregia quindi noi dobbiamo eh portare avanti quello che è nato qualche anno fa e l'abbiamo eh ripetuto durante la mattina in condizioni sempre più difficili perché eh qui c'è il dottor Ceccherini il dottor Ceccherini fino a all'ultimo giorno eh prima di andarsene ha lavorato eh si presentava in nutrizione clinica eh la figura del dottor Ceccherini non è eh stata sostituita al momento quindi io mi sono ritrovata a fare anche dei turni eh per eh per non eh lasciare scoperto il servizio di Arezzo quindi da Grosseto mi faccio quelle due ore di macchina andare e tornare ma per dare una mano ai eh colleghi eh e per far sì che nessuno dei nostri pazienti tragga nessun tipo di svantaggio da una riorganizzazione che purtroppo non promette bene perché è eh recentissima quindi il quindici maggio eh il direttore generale della sud-est ha pubblicato una delibera dove la la rete di nutrizione clinica al momento scompare dai radar quindi noi teniamo con fatica in piedi tutto un grande servizio e io qui me lo ecco vedete io ho riportato la 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 cartina del territorio della sud-est quindi dove ricade eh l'area di competenza dell'azienda sud-est che è la più vasta sappiamo benissimo della regione toscana ma anche una delle più vaste d'Italia e ho posto dei triangolini di diversi colori vedete eh che vanno a delineare tutte le figure professionali che partecipano al trattamento alla presa in carico del paziente nutrizione artificiale al momento la UOSD di nutrizione clinica di cui io ricopro il ruolo di facente funzione direttore facente funzione è collocata a ferisce al dipartimento della medicina ormai dal duemilasedici quindi è passata dal territorio ma per un discorso esclusivamente gestionale dal territorio al dipartimento della medicina ma continuando a proiettarsi nel territorio non potremmo farne a meno io eh spesso prendo l'auto di servizio vado al domicilio a eh prestare eh le mie cure le cure dei dei colleghi eh ai pazienti che hanno necessità quindi si si inserisce nell'ambito vi dicevo del dipartimento di medicina un'unità operativa semplice dipartimentale che comprende le tre aree provinciali Siena, Grosseto, Arezzo eh e che lavora in stretta sinergia con l'unità operativa professionale di teteria e invece afferisce al dipartimento delle professioni sanitarie e eh che ehm dicevo c'è una collaborazione tra medici, dietisti, infermieri, poi anche logopedisti, vedete come sono distribuiti nel territorio eh della eh sud-est quindi ci sono eh la le il triangolini eh celesti o bordati di celesti sono i medici quindi che si trovano negli ospedali, nei presidi più grandi, ricordiamoci che noi abbiamo tredici presidi nella sud-est e laddove il medico non c'è si proietta o una volta a settimana o eh una volta ogni due settimane. La condivido eh quello che diceva la la collega Silvia Puliti e anche quello che stiamo cercando di fare di eh individuare per ogni presidio un medico referente in modo tale che ci faccia un po' da trade new on rispetto alla alla all'unità operativa di nutrizione clinica al personale che vi afferisce. Poi ci sono i dietisti ci sono eh dietisti con un contratto libero professionale eh con il service dell'enterale che hanno un'azione ampio di controllo monitoraggio dei pazienti in nutrizione interale eh ci sono gli infermieri uno per ogni zona con un incarico professionale sulla nutrizione artificiale c'è il grandissimo lavoro degli ospedali degli infermieri del territorio eh tutti adeguatamente formati e quindi eh che sono in grado di eh gestire le sempre con un contatto continuo con le sedi le sedi eh principali di fornire quelle che sono le indicazioni a pazienti nutrizione artificiale. Quindi il paziente eh viene trattato se eh dimesso durante durante il ricovero e poi dimesso e eh poi va sul eh sul territorio. sul territorio ha eh esigenze e necessità differenti. Anch'io vi ho citato vedete in alto eh la la deribera e poi c'è questo discorso che eh vi ho accennato della scomparsa al momento della rete di nutrizione. Questo è quello che avviene eh in ospedale quindi eh le consulenze, i pazienti ricoverati, una grossa attività di tipo ambulatoriale che si è implementata nel tempo eh in questo in questo momento io sto creando ambulatoria doc che trattano il paziente oncologico eh che diciamo un po' il il focus in questo momento della nostra attività. Pensate che siamo passati da avere quattro io vi parlo eh della zona di Grosseto ma eh Arezzo era già avviato e lo stiamo avviando anche su Siena. Abbiamo iniziato con quattro slot per i pazienti oncologici qualche anno fa. Ora siamo a ventuno slot settimanali per i pazienti che accedono dal dipartimento oncologico. Quindi un grosso lavoro che portiamo avanti con tanta passione perché se non ci fosse la passione il nutrizionista non lo si fa in ospedale. Questo ha avuto modo di constatarlo anche ultimamente alla eh ricerca tra virgolette di colleghi che vogliono venire al lavoro in ospedale. Non se ne trovano purtroppo. E sul territorio cosa avviene? Quindi sul territorio arriva il paziente che è stato dimesso e che ha un piano terapeutico stilato dal dai dai dalla di nutrizione clinica in collaborazione con i dietisti eh fondamentale il mh il eh l'intervento l'ho messo nella slide successiva di COT e di ACOT prima e COT adesso ma come diceva eh già qualcuno al momento per noi non è cambiato nulla quindi grande supporto dagli infermieri e dalle strutture del territorio che accolgono il paziente e in questo caso c'è un'omogeneità di prestazioni che noi possiamo garantire al paziente perché il paziente se va a casa e ha necessità di una nutrizione interale o di una nutrizione parenterale ci sono dei service dedicati che accolgono il paziente e forniscono semplicemente perché il paziente non si deve recare con eh il eh portandosi dietro il carretto e caricandosi passatemi il termine tutto ciò che è necessario ma c'è chi eh porta a casa per lui quello di cui ha necessità questo soprattutto per quanto riguarda le sonde la nutrizione parenterale in più nel caso della nutrizione parenterale c'è la possibilità anche di un addestramento oltre a quello che facciamo in ospedale di un addestramento al care give da parte di un infermiere specializzato quindi eh un grosso lavoro che recepisce vedete lo scritto in alto a destra e l'abbiamo già ripetuto in mattinata che recepisce le eh normative e la eh delibere le delibere eh regionali. L'ultima eh l'ultima slide vi ho portato un esempio tipico il paziente oncologico che viene intercettato eh nella fase del di gom quindi nel dell'ambito del gruppo eh oncologico multidisciplinare quindi mi fa molto piacere eh che sapere che a breve sarà ufficiale sarà a voi divulgato il PDTA del paziente oncologico ma già in azienda a sud-est esisteva una procedura eh per la valutazione nutrizionale del paziente oncologico e che ogni tanto hanno bisogno queste procedure di essere rinfrescate soprattutto rispetto agli operatori infatti stiamo abbiamo già iniziato una serie di mm eh nelle varie zone per riprendere in mano la procedura e riprendere in mano ciò che tutti noi dovremmo fare non abbiamo più scuse le la la normativa c'è la documentazione c'abbiamo non lo dobbiamo fare dobbiamo prendere quel paziente e metterlo sulla bilancia quindi fare cose semplici io spesso a colleghi dico nessuno si sognerebbe di dire che non c'è tempo per fare uno stick glicemico oppure per misurare la pressione perché se una cosa non c'è tempo di farla significa non è necessaria e invece pesare i pazienti è necessario quindi e poi si parte da lì quindi il nostro paziente oncologico arriva al gom noi abbiamo la possibilità di far partecipare un dietista durante i gruppi ehm multidisciplinari oncologici intercetta il paziente o già malnutrito a rischio malnutrizione e lo invia lo invia o al servizio di nutrizione clinica al medico se la malnutrizione è già grave oppure all'unità operativa di dietetia e vi dicevo in questo momento in tutti in quasi tutti i presidi ci sono ambulatori dedicati al paziente oncologico nel caso in cui poi eh può avere ecco solo anche necessità di un counseling oppure semplicemente ecco di una modifica della dieta oppure della prescrizione di un supplemento di un ons altrimenti se vi dicevo c'è necessità di una nutrizione enterale o parenterale si procederà grazie all'intervento delle ACOT e delle COT ma altre figure professionali altri attori partecipano al racconto della nutrizione artificiale ve ne ho messi qualcuno l'endoscopista pensiamo al tumore testa colloca necessità di posizionare una PEG quindi altri attori che devono dialogare necessariamente con chi si occupa della nutrizione il radioterapista si sta facendo l'ultimo MM l'abbiamo fatto con i radioterapisti eh hanno partecipato trenta persone dell'unità operativa di radioterapia quindi questo a dimostrare la sensibilità che sta crescendo e che comunque non si deve mai mh arrestare a rendere lo Torino piuttosto che l'oncologo eh in un grande lavoro di squadra non si può prescindere dal fare la nutrizione artificiale senza un lavoro di squadra perché questo ce lo chiedono i pazienti soprattutto che vanno sul territorio e vi dicevo io non non finirò mai di ringraziare anche perché ho ho appreso tanto dagli infermieri del territorio che hanno una marcia in più su questi pazienti anche perché sta proprio nel loro DNA di assistere nella alimentare nella nutrizione e nella nutrizione artificiale perché l'obiettivo di chi si occupa di nutrizione artificiale quindi il traguardo che dobbiamo raggiungere l'ho messo in alto e a destra è prevenire e trattare la malnutrizione qualcuno mi ha detto sì ma devi portare i numeri sulla malnutrizione io penso che non ci sia più bisogno di portare i numeri i dati ci sono sono tanti io non vi ho portati perché altrimenti già sono una chiacchierona mi sarei di eh dilungata ma di pazienti ne abbiamo tanti in trattamento e se vogliamo se vogliamo fare una buona sanità e creare salute noi dobbiamo mai abbassare la guardia noi eh operatori ce la mettiamo tutta perché vi dicevo io ho dei dei colleghi eccezionali sul territorio siamo in contatto continuo tra di noi quindi alcune volte quello di cui ho bisogno è di un piccolo supporto anche gestionale amministrativo a dire la nutrizione clinica alla stessa valenza allo stesso peso alla stessa dignità di tante altre discipline vi ringrazio bene grazie allora io